quattro società una corsa in nome di michael antonelli gentili signore e signori ben ritornati sulle strade del secondo memorial michael antonelli corsa ciclistica riservata alla categoria juniores che da cesenatico a sant'angelo di gatteo vedrà 100 concorrenti partire in ricordo di michael antonelli si sfideranno per la coppa achille grandi la coppa nove colli e vediamo le varie formazioni che adesso si stanno susseguendo alla presentazione squadre riconosciamo le formazioni quelle emiliano romagnole con la sidermac fratelli vitali lunipol glasse che ovviamente in primis sono da citare in quanto sono le società organizzatrici di questo evento in collaborazione con la fausto coppi cesenatico che dà la sede di partenza appunto quest'oggi e la fiumicinese fight atriatica per la preziosa collaborazione minuto di silenzio in ricordo di michael antonelli osservato dai corridori e con il primo cittadino matteo gozzoli si abbassa la bandierina scacchi parte in questo momento la corsa intitolata a michael antonelli corridore san marinese che purtroppo causa un gravissimo incidente occorso il giorno di ferragosto è rimasto per molto tempo purtroppo bloccato in ospedale e poi il covid ha purtroppo spento la luce di michael antonelli negli occhi degli organizzatori e dei tanti appassionati di ciclismo rimane comunque sia questo ragazzo che aveva davanti a sé un futuro radioso e infatti oggi quattro società romagnole organizzano questa prova si parte col chilometro zero sono 103 chilometri e 300 metri da percorrere con sant'angelo di gateo che è la sede d'arrivo di questa gara che vedrà i corridori al transito per cinque giri un anello pianeggiante dovranno percorrere e tra i fiumi rigossa e storico fiume rubicone terre del liscio qui abbiamo appunto assistito al passaggio davanti alla rotonda casa dei intitolata a secondo celebre per l'inno romagnolo romagna mia e i corridori adesso qui sono appunto nelle prime fasi di gara primi chilometri primo giro con scatti e contro scatti è stata segnalata anche una caduta con diversi atleti però sono tutti quanti ripartiti gruppo compatto in queste prime fasi e con questo circuito da affrontare avremo poi dopo il percorso che diventerà più aspro con due asperità di giornata ma qui la prima azione con il numero dorsale 15 e 7 sono le formazioni di casa unipol glass con simone facchinetti e con il numero 15 francesco e cecchini e c'è gabriele defabritis del team franco ballerini tre uomini al comando vantaggio per radioinformazione quantifica sui 35 secondi con quindi questi due atleti emiliano romagnoli e con la toscana la formazione toscana del team franco ballerini gabriele defabritis però è ligure proprio ci raggiunge da sanremo e con quindi questi tre atleti la corsa si abbandona il circuito primo circuito pianeggiante l'attraversamento del piccolo centro sulle rive del rubicone di fiumicino e piano piano i corridori adesso stanno andando in direzione sogliano con le prime colline che li aspettano un circuito da affrontare anche lì 12 chilometri questo circuito con la salita che porta in località di borghi la corna chiara più volte calcata da diverse corse ciclistiche giovanili della zona qui anche marco pantani il pirata di cesenatico fu protagonista proprio quando aveva 18 anni con la corna chiara che è stata appunto suo terreno di caccia per una gara che aveva l'esito praticamente facsimile a quello odierno con la gara che a suo tempo si esauriva nei pressi di samigliano sul rubicone e qui invece oggi andremo qualche chilometro più in là con sant'angelo di gatteo con l'immagine ora del gruppo vediamo due treni che si sono a deformare questo qua della nial nizzoli e la formazione del ds primo borghi che è rimasta tagliata fuori dai giochi in questo tentativo e comincia a diventare interessante questa azione al comando perché sono tutti e tre atleti che hanno già ottenuto diversi risultati all'attivo soprattutto Gabriele De Fabritis poi avremo modo logicamente di andare a interpretare questa prova perché adesso i corridori avranno ad affrontare la salita della corna chiara una salita da non sottovalutare perché anche se è di lunghezza massima di 2,7 chilometri e una pendenza che raggiunge e sfiora in alcuni tratti il 10 11 per cento è una salita che fa selezione con molti tratti ripidi alternati a diverse centinaia di metri completamente in falso piano e quindi lì chi ne ha può mettere giù il rapporto più duro e cominciare appunto a mettere sempre più metri tra sé e i propri inseguitori. I ragazzi appunto al comando iniziano in questo momento la corna chiara in località lo stradone e rompe gli indugi subito Gabriele De Fabritis. Eccolo qua il ragazzo diretto in ammiraglia da Andrea Bardelli che quest'anno è partito veramente a sfrombattuto perché ben due sono i podi ottenuti il secondo posto a Castano Primo e il terzo gradino del podio a San Prospero di Modena gara pianeggiante in involata ma questo ragazzo se sempre lo vedete con un fisico molto molto ben strutturato si è distinto anche in gare che prevedono le salite e infatti ha voluto attaccare subito da lontano partito praticamente insieme a Cecchini e insieme a Facchinetti al cinquantottesimo chilometro di gara adesso se ne sta andando tutto solo con Simone Facchinetti che però l'ha messo nel mirino e non vuole perdersi appunto Gabriele De Fabritis mentre più ha tardato Cecchini il gruppo con Mattia Maioli della Franco Ballerini che sta tirando il gruppo vediamo dietro che ci sono le maglie quelle del team ciclistico Paletti c'è Luca Paletti forte ciclocrossista autore di un bel terzo posto quest'anno tra gli europei l'unico italiano appunto che abbia toccato il podio negli europei di ciclocross con Dante Vittoria nel al giro d'Italia di cross e poi c'era anche Lorenzo Montanari con Facchinetti che è riuscito nell'aggancio aveva perso i metri perché il primo tratto era particolarmente duro con la pendenza che era sul 10% e appena la strada è tornata ha permesso un attimo di rifiattare si è riportato in scia di Gabriele De Fabritis vediamo dietro Luca Paletti che si alza sui pedali attenzione a questa azione perché è sicuramente uno dei più pimpanti in questa prima parte di stagione il ragazzo di Modena è subito adesso dietro tenta di disperdere il gruppetto e vediamo c'è Bambacioni con del team Franco Ballerini che si è messo alla sua scia ecco i due fuggitivi intanto che sono alla svolta per tornare in salita e infatti sempre loro due mentre è stato definitivamente ripreso Francesco Cecchini della Sidermech Fratelli Vitali quindi ancora una volta al comando imboccano per la seconda volta la salita della Cornacchiara i due grandi protagonisti che tra questi due ce la giocano per il premio combattività oggi intitolato a Lorenzo Bigucci, Simone Facchinetti e Francesco e Francesco e pardon con De Fabritis mentre per quanto riguarda il gruppo il loro svantaggio è segnalato su una ventina di secondi appunto quando i ragazzi sono ancora alle prime alle prime tornate di questa di questa salita intanto Radio Corsa informa che l'azione di Paletti dietro ha disperso notevolmente il gruppo e con i due al comando adesso siamo pronti a vivere il finale il gran finale della seconda edizione del Memoria Michael Antonelli che vede che vede praticamente 15 chilometri alla conclusione e si stanno si stanno ancora guardando si danno cambi De Fabritis sicuramente quello più attivo tra i due Elia Ori poi c'è Elia Ori della Italia Nuova Borgo Panigale per la Nial Nizzoli Luca Solmi Tarabini con numero 41 e c'è Luca Rosa eccolo qua Luca Rosa del Energy Team tre i più immediati inseguitori che si stanno per riavvicinare ai due di testa quindi praticamente si sta per esaurire questo tentativo a due dietro sono sicuramente più riposati nei confronti di questi due grandi atleti che praticamente hanno animato sin da poco prima della metà di gara fino a questo momento la corsa con la loro azione stanno per essere raggiunti praticamente quando manca un chilometro alla vetta attenzione però perché con questo quintetto dietro si stanno riportando sotto anche altri atleti quindi interessante capire che cosa accadrà infatti vediamo tra le moto staffete si intravedono alcuni corridori e sul gran premio della montagna sono in otto otto unità con Luca Rosa che è andato a transitare in prima posizione sull'ultimo gpm otto unità Luca Paletti attenzione è rientrato Luca Paletti ha concluso quindi il recupero e vediamo poi che c'è Alessandro Pellegrini eccolo qua della Unipol Glass al comando di questo drappello di inseguitori Luca Paletti sta tentando in tutti i modi vedete di ricucire questo gap che praticamente dalla vetta non è più riuscito a chiudere mentre davanti sono rimaste ancora con qualche metro di vantaggio Gabriele De Fabritis e Facchinetti della Unipol Glass non mollano non hanno intenzione di mollare i due i due atleti che hanno caratterizzato praticamente tutta questa prova ma il ricongiungimento è avvenuto gli conviene a questo punto messe così le cose rifiatare e prepararsi perché l'arrivo di Sant'Angelo di Gatteo è praticamente a poco più di 6 km dalla fine della discesa e con Luca Paletti Luca Sonomi Tarabini Elia Ori Facchinetti De Fabritis Luca Luca Rosa e con Alessandro Perracchione anche che è riuscito a rientrare in questo tentativo mentre dietro abbiamo visto il drappello eccoli qua con la telecamera appunto che adesso punta gli più immediati inseguitori l'avanguardia gruppo quel che ne rimane praticamente del gruppo che è selezionatissimo vediamo che ci sono le maglie quelle della Sidermac Fratelli Vitali sicuramente quelle in netta superiorità numerica c'è la Unipol Glass abbiamo intervisto anche le sagome quelle del team Franco Ballerini con Bambagioni c'è il Velo Club Empoli c'è anche Roberto Sesana della Vertematese ASD quindi questi 9 atleti appunto che inseguono la SCAT di Forlì e Gino Garoia eccola qua con il proprio il proprio porta colori con Luca Verrado Maso Bambagioni del team Franco Ballerini con Matteo Angelini Lorenzo Montanari questi sono appunto coloro che fanno parte per i colori della Sidermac Fratelli Vitali con Fiorentini e c'è anche Michele Baldini quindi della SCAT Sesana dicevamo poc'anzi della Vertematese Davide Casini della società ciclistica Empoli questi sono appunto i 9 corridori che stanno inseguendo con Savignano sul Rubicone siamo al transito all'attraversamento della via Emilia e quindi mancano poco meno di 5 km dalla conclusione ed è 8 secondi 8 secondi di vantaggio del gruppetto di 8 contro i 9 una cronometro praticamente a squadre e vedremo poi quali squadre si andranno ad impegnare maggiormente con la Sidermac che logicamente si arriva davanti alla propria sede e punta tutto ovviamente su questa su questa gara e c'è Matteo Angelini lì davanti ed è molto interessante appunto vedere Matteo Angelini perché Matteo era caduto era caduto proprio a inizio della gara con una prima caduta che era stata segnalata nel corso del primo giro pianeggiante e lo vediamo che è già ancora là davanti quindi sta trainando il drappello in funzione ovviamente delle sue ruote più veloci i suoi due compagni Fiorentini e Montanari sicuramente tra i più attesi quest'oggi secondo già sul podio anche lui in questa prima parte di stagione telecamera che adesso si sta riportando sulla testa della corsa e grazie a questa inquadratura ci possiamo rendere conto meglio di quale sia il vantaggio quando siamo agli ultimi 3 chilometri dalla conclusione 200 metri sono praticamente quantificati in 10 11 secondi e 200 metri di vantaggio praticamente che dividono gli 8 dai 9 e attenzione perché al comando c'è appunto anche Luca Paletti forte nel cross forte appunto nella multidisciplina nella multidisciplina e potrebbe essere anche lui uno dei papabili per questa volata con la formazione anche della Unipol Glass che ha diverse frecce al proprio arco con anche Luca Maccaferri vincitore domenica scorsa a Teramo praticamente entriamo quindi nel gran finale con le telecamere fisse adesso a Sant'Angelo di Gatteo lo sprint e la volata vediamo al comando c'è le formazioni quelle dell'Energy Team ecco la Sidema che attenzione si fa spallate ed è per Racchione che va a transitare per primo sulla linea del traguardo e davanti a Lorenzo Montanari e poi c'è Gabriele De Fabritis mamma mia anche lui del team Franco Ballerini che giornata veramente sempre all'attacco e poi ancora lì le forze per duellare con i migliori vediamo nuovamente questa volata a rallenti con per Racchione che fa un primo contatto poi un secondo e addirittura un terzo con Lorenzo Montanari gli riesce appunto di spuntarla ma passa appunto il VAR non concede a Lorenzo Montanari appunto la replica e Alessandro per Racchione si va ad aggiudicare quindi la seconda edizione del memory a Michael Antonelli i 103 chilometri alla media dei 40 732 con le ultime immagini appunto con Lorenzo Montanari il secondo quindi campione provinciale di Forlice Sena premiato da Dodoriano Montanari Gabriele De Fabritis grande protagonista più combattivo di giornata terzo e gli Aori quarto quinto Luca Paletti quindi andiamo a sentire quindi a questo punto i grandi protagonisti di questa giornata Alessandro per Racchione il vincitore del secondo memory a Michael Antonelli dopo la vittoria di Picchi di Cherasco è arrivata qui la vittoria in terra di Romagna raccontaci questa gara ma è stata una bella gara era una gara che si addiceva alle mie caratteristiche quindi sono riuscito a fare un buon risultato la salita si addiceva a me non troppo lunga sulla salita stavo bene e l'ultimo passaggio ho scollinato con il gruppo dei primi che eravamo in otto più o meno e poi ci hanno ripresi all'ultimo chilometro poi all'ultimo chilometro ho preso ho tenuto la testa da dopo il cavalcavia ho tenuto la testa da 500 metri dall'arrivo poi nessuno mi ha più passato e sono molto soddisfatto di questa doppietta che è una bella soddisfazione a chi vuoi dedicare questa vittoria? ma la voglio dedicare a tutta la squadra che non ci fa mai mancare niente a Flavio Ferrando che mi aiuta sempre negli allenamenti mio papà, mia mamma che oggi è la festa della mamma e la mia fidanzata Lorenzo Montanari, campione provinciale di Forriccio Sena seconda posizione quest'oggi alla gara di casa appunto una maglia che è un po' di consolazione perché la seconda piazza brucia sempre Sì, oggi stavo bene, conoscevo il percorso, era dato le mie caratteristiche sapevo che nella seta Val Corna Chiara potevo far bene già l'avevo visto al primo passaggio e al secondo passaggio siamo scollinati dietro a un gruppetto che aveva un po' di vantaggio siamo rientrati in discesa e a pochi chilometri dall'arrivo e sapevo che in volata potevo far bene malgrado quello che è successo in volata comunque dai, devo essere contento e spero di continuare così Un secondo posto che appunto va a certificare una condizione di forma che man mano sta arrivando prossimi obiettivi in questa stagione? Sicuramente voglio far bene la gara di Montalcino la prossima domenica ma anche la corsa di domenica prossima qui a Reda, sempre Romagna da noi Ci credevo e niente, mi è mancato poco la vittoria ma un po' di rammarico Premio Combattività, con la memoria Bigucci che era un Sant'Angelo Ezedoca che ci ha messo tanto, tu ovviamente non lo conosci ma ha dato tanto per il ciclismo giovanile e oggi sei stato appunto insignito di questo premio che vuol dire molto perché hai fatto oltre 42 km di fuga Sì, molto felice per questo premio e non me lo aspettavo di andare così tanto avanti però ci ho creduto sempre Maria Sberlati, presidentessa della Unipol Glass Allora, ce l'abbiamo fatta, anche quest'anno seconda edizione del Memorial Mancol Antonelli Ci tenevi ovviamente te in particolar modo a portare a termine una gara in linea per la categoria Juniors, e che gara? Io ci tenevo tantissimo, in effetti ho richiesto quest'anno alle tre società che sono state veramente brave a venirmi incontro è stata una bella corsa in linea, abbiamo cambiato il percorso un percorso bellissimo il tempo c'è stato amico, perché bisogna dire anche questa cosa finché ci sarò io porterò avanti il Memorial di Marco Antonelli Tarciso Paolucci, un ventennio al comando della Sidermec e Fratelli Vitali oggi hai lasciato il timone al tuo vice Daniele Muccioli però non potevi mancare a questa gara che torna a Sant'Angelo con gli Juniors Sì sì, io sono venuto da stamattina presto, ho lavorato come gli altri abbiamo preparato tante cose, mi sono divertito anche oggi, come sempre in questi venti anni Eccoci, adesso per ovvi motivi hai dovuto lasciare il timone, dicevamo Sì, per questioni di salute, così ho dovuto lasciare ho allentato pian piano, però ho visto che è ora di lasciare è l'età che ci frega, se no non sarebbe gente